Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignone. Ricordiamo innanzitutto per tutti i mezzi l'obbligo in vigore di dotazione di catene da neve o gomme termiche per la maggior parte delle strade toscane, il cui elenco è consultabile sui nostri canali social. In FIPILI si segna la coda in uscita alla strassigna provenendo da Firenze per viabilità esterna che non riceve. Presenza di personale su strada in A1 tra Firenzuola e Aglio verso Roma, raccomandata alla massima prudenza. Si ricorda la chiusura della strada statale 12 a Borgo Amozzano al chilometro 40 e 500 per Caduta Massi. La riapertura è prevista per Natale. Previsti i divieti di transito al passaggio dei partecipanti alla corsa podistica Firenze-Fiesole-Firenze, in programma domani mattina. Per il traffico aereo il volo Firenze-Francoforte alle 14.25 quest'oggi è cancellato. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!